ciao ragazzi bentornati nel canale sono pietro vrn oggi si riporta nuovamente un episodio di farming simulator 22 nella mappa emilia quindi un nuovo episodio della serie ragazzi siamo arrivati come potete vedere nel mese di aprile oggi tocca occuparsi di fare delle lavorazioni qui all'interno del campo 82 un campo ad orzo e si trova adiacente ovviamente le mura dei capannoni della cascina dosso vecchio un campo ad orzo pronto per la raccolta e come mi sono organizzato ovviamente con la mietitrebbia la mia classe dominator 198h autolivellante qui ho trasferito il carrellino con la lama tra poco mi metterò in campo per lavorarlo e trebbiarlo nel frattempo volevo farvi vedere la serra è stata protagonista diciamo nello scorso gameplay se vi ricordate bene eravamo nel mese di marzo è in appena un mese guardate quanti bei bancali di lattuga rossa sfornato ovviamente attenderò ancora un po prima di accingermi a rivendermi perché vorrei svilupparne e produrne un buon numero prima di fare una bella vendita per l'appunto di lattuga rossa e per il resto di cosa parliamo parliamo anche del questo neo arrivato è un piccolo volvo krabat t425 un piccolo veicolo old che ho deciso di inserire anche qui nella mappa emilia giusto per piccole attività in farm e per la gestione delle varie manutenzioni all'interno di questa serra e fatta questa doverosa premessa direi di non perdere altro tempo quindi saliamo a bordo perché oggi c'è da lavorare accendiamo il motore accendiamo anche le luci agganciamo la lama e dirigiamoci in campo a trebbiare il terreno 82 perfetto e allora andiamo innanzitutto a dispiegare come potete notare la bd3 bi autolivellente già si regola e comincia a sollevare un po le sospensioni posteriori quindi si mette in fase di lavoro e a questo punto sì che possiamo trebbiare e ho deciso ragazzi oltretutto anche di donne attivare la modalità paia per il semplice motivo che poi capannoni pieni quindi direi superfluo fare altrettanta paia e quindi oggi andò semplicemente a trebbiare questo terreno ad orzo che non andrò però a stoccare né tantomeno a accumulare nel silos ma o a rivendere ma vi servirà per il bestiame il bestiame suino quindi riverserò l'orzo ottenuto direttamente nella mangiatoia oggi ripeto questo campo sarà protagonista per un semplice motivo che ho intenzione di sviluppare un'attività più avanti proprio all'interno di questo terreno che nelle mie intenzioni vorrei convertirlo in un terreno non più ad uso prettamente agricolo per seminare ripeto delle culture in generale ma nelle mie intenzioni vorrei piantare qualcosa alberi da frutto oppure anche un oliveto e la mia idea probabilmente ricadrà su un oliveto nel frattempo facciamo due chiacchiere ragazzi torno con un nuovo appuntamento della serie qui nella mappa emilia in questo periodo mi sono occupato prevalentemente di dare una controllatina alla trincea dell'insilato ho fatto ulteriori vendite e consegne presso il biogas resta ancora qualcosina all'interno del bunker però il più è fatto poi finalmente andrò a rivendere a rivendere a rendere i mezzi che ho a noleggio e che mi sono serviti parecchio ovviamente per quanto riguarda invece i campi in erba potete notare che sono ancora nello stadio che sono pronti in pratica per essere raccolti quindi non li ho falciati contrariamente a quello che vi avevo detto nel gameplay precedente questo per una ragione molto semplice ho scelto alla fine di attendere un altro un altro mesetto in più prima di falciare questi campi perché mi sono ricordato poi che i campi in erba hanno un'altra finestra di raccolta e mi sono accorto che in un'altra finestra di raccolta la resa è complessivamente un pelino più alta rispetto alla precedente e quindi ho deciso anche stavolta di attendere questa seconda finestra quindi nel mese di aprile andrò finalmente a falciare quei due campi per quanto riguarda invece la situazione odierna di tutte le mie attività per quanto riguarda il vigneto mi sono accorto da un controllo ovviamente dei miei campi siamo arrivati come potete notare ad aprile mi sono accorto che il vigneto finalmente nel vigneto sono spawnati nei filari del vitigno di uva bianca sono spawnati le prime foglioline verdi all'interno di quei dei paletti questo sta a significare che il terreno è pronto per ulteriori fasi di manutenzione che riguardano essenzialmente una successivo successivo stadio di fertilizzazione me ne occuperò chiaramente in un prossimo gameplay grazie a tutti ok andiamo a travasare e andiamo a prendere ovviamente il rimorchio nel frattempo mi sono accorto anche di un altro particolare la richiesta di calceviva questa è una cosa che non avevo previsto perché ero subito diciamo organizzato per fare subito una rieggiatura di questo terreno invece devo altresì dare la priorità alla calceviva quindi poi darò la priorità ripeto al passaggio della calceviva allora nel frattempo io prendo il 180 90 andiamo ad accendere ovviamente luci e quant'altro lampeggianti eccetera e andiamo a prendere possesso del metre del rimorchio orzo ripeto che non andrò ripeto a stoccare né a rivendere ma lo darò lo trasferirò immediatamente nella mangiatoia dei sui ciao 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 e si proprio la calceviva poi chiaramente va bene stati di fertilizzazione tutto e l'arresto poi seguirà chiaramente il solito clichè li andiamo a richiudere e proseguiamo a trebbiare grazie a tutti grazie a tutti ok andiamo nuovamente il 180 90 andiamo a travasare questi più o meno mille di ulteriori di orzo poi ripeto questo bel rimorchio direttamente nella mangiatoia dei suini questo terreno invece lo andrò subito a lavorare vedete quel progettino che vi dicevo prima ok qui abbiamo finito chiudiamo andiamo a ripiegare il tutto come potete notare è spettacolare ripeto l'animazione della livellante anche quando si ripiega le sospensioni si ripristinano e quindi il macchinario si resetta torna in posizione di partenza allora questo lo andiamo a trasferire qua poi la lama l'andrò a trasferire di nuovo nel carrellino qui spegniamo il motore poi e andiamo nuovamente a bordo del 189 watt e allora più o meno 6000 litri di orzo il campo è piccolino non potevo pretendere più di tanto però basta e avanza per chiaramente portarlo nella mangiatoia del dei suini giusto per andare ad integrare di cereali all'interno del del mix di cibo dei miei suini questa parte perfetto qui stacchiamo e andiamo a cambiare veicolo giusto per utilizzare un altro trattore prendiamo nuovamente il massei ferguson e ci andiamo ad agganciare il il bradal perché bisogna passare necessariamente la calceria quindi questo lo andiamo a parcheggiare nuovamente il 180 90 lo spegniamo anzi ecco e prendiamo il massei ferguson allora dovrei avere ancora una piccola quantità di calcio dalle ultime lavorazioni che avevo fatto con la calce viva eccola quasi direi che abbastanza prendiamo il bradal sono più o meno 6000 mi va benissimo e quindi questa calce viva con questa calce viva andrò a ad occuparmi del campo tanto l'idea a andiamo a ragazzi non vi sarà sfuggito sicuramente che nella zona in cui in questo momento si trova la mietitrebbia e alcune attrezzature che ho trasferito lì nei dintorni della serra di lattuga bianca non vi sarà sfuggito che ho tagliato un altro alberello questo per il semplice motivo che avevo bisogno di spazio e quindi ho tirato via l'ennesimo l'ennesimo albero ripeto per fare spazio ed è probabile che farò altrettanto anche con l'ultimo rimasto giustamente vorrei in buona sostanza approfittare di quello spiazzo per magari inserire un'altra piccola serra o comunque qualcos'altro di utile anche un piccolo capannone potrebbe essere una buona scelta in ogni caso quello quello spazio che al momento è libero sicuramente lo andrò comunque ad impiegare e ad utilizzare in qualche maniera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ok anche qui abbiamo completato ma direi che è stato fatto un ottimo lavoro non c'è più nulla da da fare e quindi adesso ragazzi che cosa faccio chiaramente quello che avrei voluto fare prima se non ci fosse stato diciamo questo piccolo inconveniente di richiesta di calceviva quindi adesso sì che andrò ad arieggiare questo terreno quindi stacchiamo il Bredal e a questo ma se Ferguson vado ad agganciare l'arieggiatore l'unico arieggiatore che ho nella cascina d'osso vecchio è l'aradro no l'arieggiatore è l'arieggiatore questo dell'aermo l'aermo arrob eccolo qua perfetto ce lo andiamo ad agganciare e proseguo le mie attività le mie manutenzioni su quel terreno insomma lo devo rendere questo è idoneo per una posa delle mie intenzioni per una posa successiva che farò per piazzare dei filari che siano i filari di ulivo questo è più o meno ciò che vorrei portare qui in questa cascina d'osso vecchio per quanto riguarda invece i campi in erba poi ripeto mi occuperò anche di più avanti ovviamente mi occuperò anche di falciarli di fare qualcosa è uno dei due campi però saluterà la sua finora occupazione ovviamente nel nel come campo in erba perché ho intenzione di riconvertirlo in terreno nuovamente in terreno da seminare delle mie intenzioni vorrei sfruttare uno di questi due campi grandi ex campi ad erba per fare un bel campo a mais sfruttando per l'appunto il fatto che andrò a liberare a breve anche la trincea e questi campi si trovano ripeto vicino la trincea potrebbe essere un ottimo un ottimo investimento oltretutto la finestra di aprile è sempre una finestra di calendario colture sempre ricca di opportunità dove ci si può ingegnare con tantissime varietà di colture possiamo piantare un po di tutto e quindi attendevo proprio aprire per piantare del mais attenzione Grazie. 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 Ripeto ragazzi come potete notare ho saltato volutamente anche la fase di trinciatura post mietitura perché non sono interessato, oltretutto ripeto questo sarà un terreno che serviva come base per il per impiantare ripeto quel questo uliveito che ripeto un argomento che affronterò nel uno dei prossimi gameplay se non nel prossimo o nel successivo e per l'appunto mi serviva un bel terreno vicino le mura del faro un terreno possibile pianeggiante che potesse corrispondere a delle determinate caratteristiche quindi non eccessivamente grande è l'unico terreno idoneo disponibile che aveva queste caratteristiche era proprio il piccolo campo 82 per seminarlo nuovamente ricavare sempre dei risultati comunque tutto sommato molto piccolini non non vale la pena perderci tanto tempo invece lo sfruttiamo per per piantare qualcosa ripeto un albero da frutto una serie di alberelli da frutto ripeto oppure un uliveto e la scelta poi alla fine è ricaduta proprio sull'uliveto un argomento che gioco forse ho dovuto snorvolare nei mesi precedenti per il semplice motivo che non era ancora il periodo idoneo nel calendario per fare il diciamo per piantare questa coltura ma visto che ormai siamo ad aprile tanto vale cominciare a preparare per bene un terreno e renderlo disponibile per questo lavorare e 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 anche questa è andata direi che l'ultima l'ultimo passato di arieggiature avrò completato il lavoro di oggi poi toccherà solo fertilizzare o comunque fare delle manutenzioni che comunque andrò a fare quando avrò piazzato il ciò che dovrei fare in questo caso il uliveto ma questo è un discorso che vedrete in un prossimo gameplay della serie e nel frattempo vado a concludere finalmente perfetto richiudiamo l'ermo e e abbiamo finito e direi che anche per oggi è andata quindi io mi fermo qui ciò che volevo portare alla fine avanti in questo episodio l'ho fatto e sono particolarmente soddisfatto ragazzi che dire spero che anche questo ennesimo episodio qui nella mappa emilia qui su farming simulator 22 vi sia piaciuto io come al solito vi invito a lasciare un bel pollicione in su iscrivervi al canale lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere noi ci ascoltiamo la prossima volta e da parte mia ciao 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 ciao